E' sta... Good boy, he's on! Ehi! Sta per cominciare Detective Astronauta Delfino! E' il mio programma preferito! Sì! Capitano, il malvagio gambero spaziale ha costruito una gigantesca astronave a forma di motosega Ha intenzione di tagliare il sole a metà Un'astronave a forma di motosega? Come fa a volare? La controlla con la sua mente, signore E' ovvio! Ma perché il malvagio gambero spaziale vuole tagliare il sole in due? Così potrebbe tenere aperto il suo nightclub 24 ore su 24 Sembra un lavoro adatto al Detective Astronauta Delfino! Ma signore, lo ha fatto arrestare per aver defecato nella bocca del presidente spaziale Fallo uscire! Capisco quale sia il tuo problema E ora ti spiegherò per quale motivo vi abbiamo messi insieme Il qui presente Roberts si attiene totalmente alle regole Il suo compito è di assicurarsi che tu non esca dagli schemi Devi allacciarti la cintura! Allora, che cosa farete per fermare il malvagio gambero? Il nightclub del malvagio gambero è chiuso Cosa? Non riesco a capirti! Ehi! Una poletina! Bip bip! Al parbrezza! Bip bip! Fatti un giro! Forse riusciremo a catturare il malvagio gambero nella sua villa Cosa? Ehi! Nessun problema, Delfino! Ehi! Era il mio portafogli! Cosa? Un momento, ho portato un traduttore automatico Allora, che stavi dicendo? Dannazione, deve essere rotto Non è rotto, faccia di c***o Ehi! Ridammelo subito!